Il settore agroalimentare è un settore che mi affascina e ci deve colpire a affascinare tutti perché, come è stato anche detto, il modello dell'impresa è quello familiare ed è lì forse la forza di questo settore di attività economiche. Ed è stato anche ricordato, mi fa piacere che è stato fatto, che qui non si va in pensione perché quando c'è passione non ci si ritira mai dall'impegno diretto. È un settore che però non coinvolge solo pensionati ancora in attività. Noi abbiamo, credo lo sappiate tutti, il primato, voi correggetemi quando dico qualche fesseria, il primato degli under 35 per gli impiegati in Europa, per gli impiegati under 35 in questo settore. È un bel primato, significa che i giovani sono vicini a questo mondo, significa che i giovani vedono un futuro in questo settore. E io come decisore politico non posso essere insensibile a questo grande segnale che ci arriva dai giovani. Grazie.